Oggi per l'ennesima volta piangiamo delle vittime, non sappiamo ancora quante, perché si sta facendo ancora la conta, vittime di una guerra innescata dal terrorismo islamico, una guerra che pare non aver fine, una guerra alla quale noi non rispondiamo. E noi, le dico francamente, siamo stanchi di commemorazioni, siamo stanchi di piangere i morti. Noi chiediamo, e lo chiedo a lei, perché si faccia da tramite con la Presidente, un dibattito serio in quest'Aula sulla questione del terrorismo islamico. Un dibattito serio dove il Governo, il Presidente del Consiglio, ci venga a dire per filo e per segno quale misure, in sostanza, sono state messe in atto. Noi non vogliamo piangere a altri morti e a gente che prega, a quelli che pregano, affinché noi possiamo pregare sui nostri morti, va messo un punto. Ci vuole una reazione e che sia una reazione concreta e non una reazione unitaria solo nelle commemorazioni.